...destro che non è il suo piede... Siamo contenti per Rossetti perché è il primo gol con l'Under 21 ma a parte questo che in qualche modo insomma... ...destro che non è il suo piede... ...siamo contenti per Rossetti perché è il primo gol con l'Under 21 ma a parte questo che in qualche modo insomma riscatta l'errore prima l'autogol, sì, sfortunato, intendiamoci, non è che fosse... però così siamo più contenti anche per lui, 2-1 Siamo contenti, ma poi siamo contenti per la reazione di questa squadra che ha avuto nella tecnica, nell'atteggiamento nell'andare a pressare, nell'avere...